Perché in effetti dove fare un'introduzione ai concetti di Blacksmith in realtà è qualcosa un po' di ibrido perché ovviamente parleremo di qualche aspetto dello sviluppo embriologico ma poi ovviamente non è che potremo approfondirlo più di tanto. Diciamo che è un modo che ci confronteremo tra noi in modo tale da esplorare insieme gli aspetti che possono interessarci da un punto di vista clinico soprattutto, quali sono le possibilità e cosa probabilmente va studiato un po' approfonditamente in una sorta di proiezione di quelle intuizioni di Blacksmith che secondo me è straordinaria che adesso è nell'ambito della cosiddetta epigenetica. Proveremo un attimo a dare qualche indicazione e proveremo anche a capire che cosa significa per noi che lavoriamo sul corpo direttamente, che cosa significa avere una conoscenza di anatomia ontogenetica e quali concetti di Blacksmith ci possono aiutare nell'avere un'idea di insieme del corpo. che spesso ci sfugge, che è basata troppo sull'anatomia che di per sé è fondamentale ma che se poi rimane legata a temno, cioè al tagliare, al separare praticamente in qualche maniera può creare di per sé un limite. Questo in senso generale ogni conoscenza che si acquisisce porta dei passi avanti e automaticamente pone dei limiti a ulteriore conoscenza. E questo dovrebbe essere anche insomma lo spirito per cui andiamo a studiare l'embologia cosiddetta biodinamica e biocinetica e poi eventualmente vederne i limiti o comunque più che vederne i limiti provare ad aprire ancora di più gli aspetti che Blacksmith ha intuito, ma che poi per motivi legati all'epoca e quindi alla ricerca, certi aspetti della ricerca non sono stati più portati avanti, che invece sembrano aperti appunto degli aspetti di sviluppo epigenetico, che poi si basano proprio sui principi di formazione embriologica. L'altra volta, l'ultima chiacchierata che abbiamo fatto, eravamo praticamente rimasti sul, abbiamo parlato dell'interocezione, avevamo detto come l'interocezione secondo Craig possa essere una sorta di elemento centrale nella costituzione dello sviluppo della coscienza, del sé. Diceva Black, citando appunto Craig, diceva che le evidenze anatomiche che suggeriscono la rirrappresentazione ad alto livello delle attività omeostatiche che si attralizzano all'inizio anteriore, di destra e di sinistra, sono presenti esclusivamente ai primati umanoidi. E questo rappresenta praticamente una sorta di elemento che ci accomuna e che poi attraverso le tecniche di imaging funzionale creano una sorta di immagine a livello cerebrale del sé fisico. Quindi il nostro sé fisico è caratterizzato, che poi probabilmente è alla base... ...possima settimana andrà in pensione... ...sì, andrà in pensione, io ci spero, ma non so se posso, se ce la farò comunque... ...e pertanto possono in qualche maniera creare le condizioni per lo sviluppo della coscienza umana. L'altra volta avevamo detto che Craig non dice che l'insula è la coscienza. Craig dice che l'insula, in particolare quella di destra dove c'è la rirrappresentazione, rappresenta l'elemento centrale per lo sviluppo... ...diciamo la sedia anatomica su dove partiranno i processi che sono ancora abbastanza misteriosi per lo sviluppo della coscienza. Per avere però la coscienza, quindi, e questo è interessante, noi dobbiamo avere un corpo. E questo corpo esprime una propria attività, l'attività di fondo. E qual è questa attività di fondo? Beh, l'attività di fondo è legata ai processi. Allora, Craig utilizza il termine che, in pratica, che secondo me è un po' equivoco. Lui parla di attività omeostatica, no? Questo ne parla anche Damasio e Critchley, che ha lavorato molto nell'ambito dell'interocezione. Si parla di condizioni omeostatiche. In realtà, utilizzerei la parola metabolica, perché l'omeostasi, sono molto legato alla definizione che dà McEwan dell'omeostasi. L'omeostasi sono delle condizioni sine qua donne, quindi sono quelle condizioni che sono, ad esempio, legate alla temperatura corporea, al pH del tessuto, alla pressione di passare d'ossigeno, eventualmente di anidia carbonica, la presenza più o meno di substrati nutrizionali, per esempio lo zucchero, il glucosio. Quindi queste sono condizioni praticamente assolutamente di base, che non possono essere modificate. Quindi sono le condizioni sine qua donne. Ovviamente, per mantenere quelle condizioni stabili, ci vuole invece in realtà tutta una condizione di dinamica che McEwan stesso chiama all'ostasi, visto che si chiama, che la dicitura precisa è omeostasi. In realtà tutto questo è legato al fatto che per mantenere qualcosa di totalmente fermo in un soggetto vivente, che è un elemento, come dire, un sistema aperto dissipativo, l'equilibrio è dinamico. Quindi se l'equilibrio è dinamico vuol dire che tanta roba diventerà, il tot deve uscire e ci saranno delle trasformazioni all'interno. Quindi gli studi di Craig e le accezioni di Damasio ci dicono che l'attività, la condizione metabolica che noi abbiamo è ciò che determina l'emergere del sé o del me materiale. Quindi vuol dire che sono le attività metaboliche. Quindi, metabolo, allora, metabole, anzi, se volessimo fare i puristi dovrebbe essere metabolee. Che cos'è il metabolee in greco? È la mutazione, cioè il cambiamento, la variazione, il trasmutamento, il trasferimento, il passaggio, lo scambio e poi ovviamente la parola in greco aveva anche l'accezione di commercio. Allora, che significa tutto questo? Vuol dire che è tutto ciò che l'essere vivente fa, che una cellula in rapporto con il suo ambiente extracellulare determina, cioè il cambiamento, la variazione, le sostanze, la costruzione. Luca chiude il microfono, le variazioni praticamente che avvengono, le trasmutazioni, il passaggio. Questo è il metabolismo. Ora, si potrebbe descrivere il metabolismo sempre in variazione, sempre Luca. Allora, si potrebbe parlare del metabolismo in termini biochimici, di formula e quant'altro. Non sono assolutamente in grado di fare una cosa di questo genere. Poi, come clinici, insomma, noi ci dobbiamo interessare, a parte se esistessero comunque, qualora andassimo incontro a delle problematiche specifiche di malattie metaboliche, dovremmo studiarne dei corsi, che ne sono veramente lipidosi, oppure tutte quelle malattie che dà accumulo. Però non è questo l'argomento che ci interessa. L'argomento che ci interessa è definire, da un punto di vista, di quello che ci può interessare da un punto di vista clinico. Intanto, se noi dovessimo basarci esclusivamente su degli aspetti biochimici, lì saremmo un po' nei guai, perché fondamentalmente, per dirla con un fisico, che mancherebbe in pratica il cosiddetto attrattoro, cioè qualche espressione di ordine che si esplica, aspetti fisici che noi non conosciamo, ma non siamo neanche in grado, diciamo, per formazione di poter tanto gestire. Per cui, da un punto di vista piuttosto un po' più terra-terra, da medico di campagna, diciamo, a noi ci interessa il metabolismo sotto forma di dinamica, se volete dinamica meccanica. E qui ci viene incontro, appunto, Blacksmith. Perché per Blacksmith, praticamente, la formazione del conceptus, che è una piccola goccia d'acqua, veramente piccola piccola piccola, caratterizzata dal ricostituirsi della struttura diploide, determina praticamente che nella stessa cellula si attivino, ovviamente, attività metaboliche, cioè che sono espressività della vita. Ora, noi, il nostro padre fondatore, che è Endotelostel, ha parlato di moment is life, cioè che il moto è causa di ogni vita, per dirla con le parole di Da Vinci. Per cui, in effetti, noi potremmo entrare nell'ordine di idee che gli elementi che costituiscono il metabolismo, o meno quello che ci possa interessare, sono legati al movimento. Movimento di cose, in questo caso, ovviamente, di fluidi, anche perché noi siamo fatti di acqua, siamo fatti per il 98% di acqua. Per cui, certo, l'acqua non è tutta uguale, cioè la si esprime in maniera diversa, poi magari avremo modo di parlarne un po'. Però, fondamentalmente, ciò che è importante è che ci siano degli elementi di circolatori, cioè che, in pratica, ci siano dei flussi che dalla membrana vanno verso il centro, attraverso un citoplasma, e arrivano al nucleo e poi ripartono verso la direzione opposta. Infatti, per Blacksmith, il sistema è come sistema del conceptus, e quindi, in generale, tre cellule, può essere, in qualche maniera, ridotto alla presenza di una struttura esterna, che è la membrana cellulare limitante, quindi la membrana plasmatica, una interna, che è la zona del nucleo, e poi c'è un citoplasma, che lui già chiama connettivo, e secondo me è abbastanza intelligentemente, che connette la porzione interna con l'esterna e che è molto attivo, dice Blacksmith, alla normale temperatura corporea. Quindi è lì dove avvengono fenomeni di trasformazione e, se volete, anche di deposito. E quindi, secondo Blacksmith, nessuna cellula dovrebbe essere considerata come un'unità rigida, ma piuttosto come un aspetto momentaneo di un movimento metabolico ordinato nello spazio. Questo tipo di concetto, cioè che vi è un movimento metabolico ordinato nello spazio, vuol dire flussi in entrata, flussi in uscita, quindi per esempio potremmo anche dire flussi di tipo anabolico, flussi di tipo catabolico, può essere in qualche maniera riversato anche su quelli che sono i tessuti, sugli organi, oppure su qualsiasi elemento del nostro organismo, che nel caso di Blacksmith lui riferisce agli stati di sviluppo. Però non dimenticate una cosa, che quando le cellule sono completamente differenziate, in realtà poi non riescono più a riprodursi. E quindi nel nostro organismo di adulto permangono sempre delle cellule leggermente differenziate, che hanno, quindi non completamente differenziate, quelle che chiamano staminali, che potremmo chiamare, che sono in grado praticamente di riprodursi e sostituire il nostro sistema. Sappiamo che le nostre cellule sono continuamente, i nostri apparelli sono continuamente modificati, tranne certi, cioè i neuroni ovviamente sono quelli che non hanno un grosso ricambio, ma per esempio, che ne so, la cute piuttosto che i muscoli, piuttosto che le ossa, cioè l'intestino. Ci sono ad esempio i globuli rossi, hanno un loro ciclo, che tra l'altro permette, l'emoglobina glicosilata si basa sul fatto che si possa calcolare la vita media di un globulo rosso e quindi sapere per esempio la media della concentrazione di glucosio nei tre mesi in cui praticamente i 90 giorni in cui il globulo rosso persiste. Quindi tutte le nostre cellule continuano a essere in qualche maniera sostituite, rimpiazzate e per fare questo ci vogliono praticamente delle cellule che mantengono la capacità di riprodursi. Quindi vuol dire che c'è un continuo muoversi, una continua creazione di dinamiche le quali ovviamente saranno perfette in condizioni di salute, lì dove la salute praticamente a questo punto diventa una sorta di condizione coerente di tutto quanto il sistema, cioè tutte le dinamiche sono tra loro coerenti, poi si tratterà un giorno di capire bene cosa significa, però intuitivamente ci sembra qualcosa di utile, potrebbe essere delle oscillazioni elettromagnetiche e quant'altro e quindi vuol dire che quel tipo di coerenza fa sì che il sistema possa avere accesso a ciò che era quell'informazione che forma, in formazione, con le parole di David Byrne. Per cui l'aspetto diciamo rilevante a mio parere è che già Blacksmith ci fa vedere una natura o comunque ci mostra una cellula di tipo dinamico, cioè non statico, non siamo abituati molto a una lettura statica delle strutture e se volete a volte anche dell'anatomia e quando dico statica non vuol dire solamente diciamo legata al fatto che ci limitiamo alla mobilità delle articolazioni ma in realtà tendiamo a anzi proprio in quel caso tendiamo a considerare mobile esclusivamente ciò che è articolabile e il resto invece non ci rendiamo conto che è dotato di un continuo movimento e forse questi movimenti vanno anche al di là di quelli che noi possiamo in qualche maniera immaginare sarebbe interessante un giorno cominciare a pensare in termini palpatori e cominciare a percepire e cominciare a scambiare tra noi esperienze circa quelli che sono i fenomeni di movimento presente roba futura molto futura però insomma le basi ci sono perché poi in qualche maniera quel tipo di palpazione ci mette in accordo con i sistemi di vitalità perché poi il metabolismo la trasformazione è legata ad aspetti di vita quindi possiamo anche dire perché una struttura è in vita appunto perché ha un'attività ordinata metabolica e quindi c'ha movimento quindi movimento moment is life nella di stile in qualche maniera la testiamo sempre più ogni giorno che lavoriamo comunque abbiamo acquisizioni di competenze nel nostro ambito clinico la membrana limitante non può agire indipendentemente dal nucleo e viceversa visto che entrambi sono reciprocamente collegati per via cinetica tra bencidoplasma questo è evidente ok ehi allora per cui e qui cominciamo già a dare delle piccole definizioni diciamo di tipo come si può dire classificatori noi possiamo denominare ogni cellula un cosiddetto campo metabolico cioè lì dove in pratica c'è una perfusione di fluidi o un movimento di fluidi che dalla periferia verso il centro e che dal centro verso la periferia noi abbiamo un'espressività di mobilità cioè un'espressività di attività metabolica quindi la cellula è un campo metabolico lì dove metabolico significava la trasformazione quindi l'arrivo di un'informazione la trasformazione quindi eventualmente il deposito e poi l'escrezione quindi il movimento esterno quello che sono i due pilastri dell'attività metabolica cioè l'anabolismo di costruzione e il catabolismo a ciò che viene in qualche maniera è il prodotto della degradazione dell'attività di costruzione questo campo metabolico mette le basi per la trasformazione cioè proprio per il fatto che le due cellule la cellula scusate ha un'attività metabolica determina una variegatezza di espressività all'interno del del citoplasma per esempio in modo tale che le varie strutture le varie condizioni metaboliche all'interno del citoplasma stesso siano varie facciamole per banalizzare in certe zone del citoplasma verranno più se avvengono attività anaboliche ci sarà ovviamente una zona che riceverà i prodotti catabolici quella zona quindi già di per sé all'interno di una cellula si pongono le basi per una differenziazione tra zone in cui ci saranno gradienti chimici ci saranno gradienti di tipo sepolette elettromagnetici di cariche negative o positive quindi ci saranno molecole e quindi acqua che si muove più che molecole che staranno nel respingimento e altre invece che praticamente saranno in attrazione ma sono lezione no ma infatti io mi ricordo che tu avevi detto raga mi sono arrivati i soldi sono ricca mi sono arrivati i soldi però forse tu avvi risposto a un'altra domanda e avevo capito perfetto aspetta un'altra domanda va bene allora andando avanti quindi significa che la domanda che ci si deve porre ed è interessante è come mai a un certo punto una cellula che la cellula il nostro conceptus come lo chiama blacksmith il nostro la nostra cellula praticamente fecondata ricominci praticamente cominci o abbia necessità di andare incontro a una suddivisione e questo è dato al fatto che esiste uno sviluppo che secondo blacksmith comincia dall'interno e scusate non inizia dall'interno ma che va praticamente ad essere stimolato dall'esterno ora noi veniamo da una fine di ventesimo secolo che è una sorta di ubriacatura genetica in cui ci sono state anche grandi attività nella modulazione nella modificazione nell'intervento sul genoma e però stanno emergendo aspetti epigenetici cioè vuol dire aspetti che influenzano l'attività della funzione genetica dall'esterno tutto questo è molto interessante perché in qualche maniera blacksmith in modo ovviamente molto più empirico basato su un'attentissima osservazione dei fenomeni io sfido chiunque al mondo ad avere l'esperienza che ha avuto blacksmith probabilmente unica di esplorare e di osservare le modificazioni negli embrioni umani lui si rende conto che le modificazioni che avvengono sono all'interno sono praticamente stimoli che vengono dall'esterno attualmente un diciamo uno studioso di embryologia comunque chi si interessa di epigenetica parlerebbe che ne so di fattori di crescita e differenziazione delle cellule staminali ci sono tantissimi questi fattori che sono stati messi in evidenza qualcuno lo utilizza anche per esempio l'ha cominciato ad utilizzare nelle patologie neoplastiche ci sono degli aspetti molto interessanti quello che è rilevante da un punto di vista secondo me storico è che Blacksmith è il primo che intuisce questo tipo di certo non descrivendo i fattori ma descrivendo gli aspetti in pratica di tipo che erano osservabili con i suoi mezzi tecnici e però lui intuisce e lo dice prima dell'ubriagatura genetica dice che l'informazione arriva dall'esterno cosa vuol dire vuol dire che il materiale genetico l'effetto del materiale genetico non dovrebbe essere considerato una serie di spontanee istruzioni come quello che è il codice genetico che stabilisce cosa si debba fare cosa non debba fare in realtà ci troviamo di fronte a una serie di elementi che reagiscono alle istruzioni e questo in qualche maniera attualmente è quello che per lo più viene accettato o è oramai quasi completamente accettato cioè il fatto di avere delle cellule diversificate che hanno lo stesso genoma significa che ci sono zone del genoma che vengono attivate in determinate cellule e altre zone del genoma che vengono attivate in altre cellule cioè quindi vuol dire che in questa maniera avendo tutti lo stesso genoma vuol dire che certe porzioni di genoma vengono attivate in determinate cellule e quindi sono attive mentre le altre porzioni di genoma sono silenziate mentre in altre cellule avviene avvengono altri tipi di attività sempre lo stesso tipo quindi attivando zone e silenziando altre tutto questo è molto interessante però è stato di fatto che non a volte non è chiaro il motivo per cui certe zone perché in certe zone sì e in certe zone no ora Blacksmith ci dà una intuizione di cui adesso parleremo ed è legata praticamente a aspetti legati al topos in particolare cioè alla sorta una sorta di prima attività di differenziazione cioè perché le cellule vanno incontro a certe differenziazioni perché perché ci sono come per dirlo in termini un po' più moderni che Blacksmith avrebbe utilizzato dei cosiddetti network differenziativi cioè ci sono delle reti di cellule che si differenziano bene andiamo un po' avanti il materiale genetico dice Blacksmith non parlo di Blacksmith questa non è un modello della conseguente forma dell'organismo embronale di quello dell'adulto pertanto si può affermare che l'ontogenesi cioè in pratica la genesi dell'essere cioè di come si costituisce l'individuo è la totalità delle risposte agli stimoli sull'uovo fecondato quindi noi ci sviluppiamo in rapporto al fatto di avere degli stimoli e il nostro genoma che è identico per tutti noi risponde praticamente a quegli stimoli ora si tratta di capire quali sono le leggi che governano quegli stimoli e non sempre questa cosa qui è chiara allora questa è una bella immagine di come avviene la prima suddivisione cellulare se leggiamo i libri di testo di embrologia questo fenomeno è classificato come una divisione che avviene anzi divisione di due cellule figlie che avviene praticamente dopo 24 ore però andiamo un attimo a analizzare un po' meglio intanto vediamoci un attimo la struttura questa qui è la capsula pellucida che siamo dopo la fecondazione quindi ovviamente quindi questo è l'ovulo fecondato che Blacksmith chiama conceptus concepito ed è mantenuto all'interno di una struttura che è la capsula pellucida questa è la membrana trasmatica ora in questa cellula praticamente si stanno verificando tutta una serie di modificazioni perché? perché la cellula vive e quindi vivendo determina praticamente delle trasformazioni creando delle trasformazioni delle trasmutazioni dei cambiamenti metabolè questo cambiamento attua una sorta di modificazione se volete uso un termine diciamo di posizione all'interno ci saranno zone in cui avranno ci saranno più molecole cataboliche altre in grosse attività anaboliche sempre hanno lo stesso citoplasma questo però che cosa fa? determina delle modificazioni di forma della struttura stessa e le modificazioni delle forme a un certo punto creano create dai flussi che si generano all'interno praticamente della della cellula stessa queste modificazioni di flusso possono essere in continuità o in opposizione per cui in certe zone della membrana plasmatica si possono venire e blacksmith definisce delle zone di clivaggio in questa zona qui la vedete bene questa zona di clivaggio che poi la vedete ancora meglio qui è attiva quindi infatti dopo esattamente 24 ore dopo un giorno attiva la prima suddivisione e attenzione blacksmith parla di suddivisione non divisione ne parla di due cellule figlie perché perché sono due cellule totalmente non totalmente sono due cellule piuttosto differenti piuttosto differenti anche nella forma nella grandezza nel volume e poi c'è un altro aspetto importantissimo la suddivisione toglie volume alla cellula cioè dopo la suddivisione la somma volumetrica di queste due cellule che sono il frutto della suddivisione della cellula della prima cellula quindi la cellula che è l'ovulo fecondato cioè il conceptus questa prima suddivisione praticamente determina una perdita di volume perché è importantissimo questo perché questa perdita di volume a parte che per permettere la suddivisione rimanendo sempre all'interno della pellucida che vedete qui ma questa suddivisione crea in pratica la presenza di uno spazio che diciamo potremmo già definire il primo spazio intercellulare quindi la cellula fecondata si suddivide dopo 24 ore e le prime due cellule che vengono chiamati blastomori presentano un differente profilo istochimico e per tale motivo interagiscono metabolicamente che significa questo? Significa che avendo in pratica un profilo istochimico diverso ci saranno punti all'interno della cellula continuano ad esserci attività differenziate per cui queste attività differenziate potranno essere complementari cioè di attrazione praticamente tra le stesse cellule vedete per esempio qui si attraggono e qui si respingono ora attraendosi e respingendosi creano in pratica la tendenza alla prosecuzione cioè alla continuità di contatto tra cellule e contemporaneamente zone in cui la stessa cellula si respinge il che significa che si genera già con la prima suddivisione la prima struttura diciamo a mio parere l'elemento rilevante che va a essere che potrebbe essere che va messo in evidenza è il fatto che si generi lo spazio intercellulare che è uno degli elementi che costituisce il nostro cosmo quella che poi dopo vedremo essere la matrice cellulare o vedremo altre altre definizioni o interstizio come dice qualcuno attualmente in questa immagine facciamo una piccola reprimenda dal povero blacksmith che in pratica nei suoi scritti dice che sono diverse sono anche di forma diversa come è una bella e poi razzola malissimo facendo questo disegno assolutamente identico invece la foto invece qui ci mostra la foto ci mostra in effetti due cellule differenti stesso patrimonio genetico ma sono già due cellule differenti questa è la cosetta l'apostrofo asimmetria che è la base del nostro differenziarsi se non fossimo asimmetrici già dall'inizio non avremmo mai la possibilità di sviluppare una complessità che è il nostro corpo quindi anche la nostra specie la sua complessità come specie animale e quant'altro e se non saremmo dei batteri monocellulari che non hanno forte differenziazione da l'uno all'altro qui adesso passiamo un passo avanti quindi qui dicevamo adesso vi proietto già verso la siamo passati quindi dalle 24 ore qui ovviamente non parleremo del resto della segmentazione e tutto e quant'altro diremo che già c'è stato ci sono avvenute tante cose e andiamo verso un altro tipo di classificazione cioè in pratica quella suddivisione continua che si diventerà la blastocisti e quant'altro il risultato di tutte quelle suddivisioni è che già noi abbiamo delle cellule che non hanno più una cosiddetta totale totipotenza ma cominceranno potremmo cominciarle a definire in pratica se volete multipotenti come dire in qualche maniera il fatto che queste cellule le troveremo in questa zona qui o le troveremo in questa zona qui questa è ovviamente il trofoblasto cincizofoblasto citotrofoblasto mesoblasto queste tutte strutture che stanno all'esterno per blacksmith questo è il cosiddetto ectoblasto sono praticamente cellule che sono cellule che provengono dall'opulo fecondato quindi dal conceptus un prodotto del conceptus quindi questo se questo è il conceptus iniziale e dopo 24 ore questo è il conceptus praticamente all'inizio della terza settimana di sviluppo quindi alla fine della seconda settimana meglio ancora dove praticamente abbiamo che tutte queste cellule che voi vedete sono questa sono praticamente delle cellule che faranno parte del sistema placentale mentre queste sono le cellule queste qui che faranno parte del sistema più propriamente embrionale cioè saranno l'embreoblasto ora questo nei termini più moderni si chiama trofoblasto in generale quando si parla di trofoblasto significa nutrimento cioè quindi sono le strutture che servivano alla nutrizione al mantenimento al sostegno nutrizionale dell'elemento centrale che invece si chiama embrioblasto blacksmith richiama in maniera più meno poetica ectoblasto ed endoblasto e tutto ciò che c'è qua in mezzo vedete questa specie di zona qui lui lo chiama mesoblasto però adesso non andiamo a fondo di questa zona qui diciamo troppo a scavare ciò che ci interessa è quindi vuol dire che già nella diciamo nelle due settimane che seguono il concepimento le suddivisione cellulare porta delle cellule a disporsi in certe zone piuttosto che in altre e qui entriamo nelle regole straordinarie che blacksmith intuisce cioè praticamente quelle diciamo che in cui il sistema già sta dandosi una sua specializzazione qui ci troviamo di fronte a delle cellule che sono già indirizzate queste cellule qui fondamentalmente non faranno altro che andare incontro a una trasformazione in placenta quindi sono già indirizzate non sono totalmente differenziate ma la loro via è già come dire definita così come è definita in qualche maniera anche la sistema embrioblastico in cui abbiamo due linee cellulari queste due linee cellulari che sono caratterizzate da questa porzione sovrastante a questa porzione sottostante questa è una magnificazione quindi un ingrandimento di questa in cui possiamo cominciare a vedere questo vi dico subito questo è il cosetto sacco vitellino questo è la cavità ameneodica in cui potete cominciare a vedere questo filare di cellule che sta al di sopra che si chiama ectoblast in realtà che è il precursore dell'ectoderma e questa è la zona in pratica scusate ectoblast scusate questo si chiama epiblasto scusatemi epiblasto che è il precursore dell'ectoderma e questo sarà l'ipoblast l'ipoblast che praticamente è il precursore dell'endoderma quindi anche qui le cellule già cominciano ad avere una minore diciamo totipotenza cioè si è attenuata la totipotenza ha cominciato già a esprimere praticamente aspetti genetici che altre strutture e quindi che cos'è che lo determina l'ambiente praticamente è quindi lo stimolo epigenetico e lo stimolo epigenetico cos'è? L'ambiente cioè se io ho una cellula che si trova qui piuttosto che qui il suo destino di differenziazione di attivazione del sistema praticamente genetico sarà differenziato così come sarà differenziato in questo momento è meno evidente ma già c'è una probabilmente una tendenza a una diversa attivazione tra queste cellule e queste cellule cioè tra queste cellule qui epiblasto e quelle dell'ipoblasto le epiblasto sono quelle che sono prospicenti il cosiddetto sacco amniotico mentre l'ipoblasto sono quelle prospicenti il cosiddetto sacco vitellino secondario ora questo è uno schema di Langman in cui potete vedere l'epiblasto e l'ipoblasto cioè il futuro ectoderma e il futuro endoderma tutto questo è sincitotrofoblasto citotrofoblasto qui si parla di mesoderma estrembronale in realtà è il mesoblasto questo tutte queste strutture praticamente sono già in qualche maniera indirizzate in una certa direzione poi avviene qualcosa durante l'inizio della terza settimana e durante la terza settimana praticamente comparirà il cosiddetto mesoderma che sarebbe l'equipollente del mesoblasto ma nell'embrione mesoblasto parte dell'etrofoblastamento e qui abbiamo dell'embrione e io vi ho messo delle immagini quindi una figura questa qui questa è stilizzata però su questa immagine si vede ancora meglio qui in pratica Blacksmith ha tutta una serie di idee anche piuttosto secondo me condivisibili sul fatto che non ci sia una proliferazione cioè non ci siano delle migrazioni cellulari però non ditelo a Frank Willard se no mi fa le cure che sa fare lui però diciamo c'è una serie di incongruenze sul concetto di migrazione qui per esempio in questa immagine qui c'è un articolo che negli anni 90 in cui si dice che addirittura le cellule a un certo punto dell'ectoderma cominciano a migrare si mettono nella fessura nella fossetta primitiva e quindi vanno a occupare gli spazi sostanziali è improponibile invece ciò che è il motore delle attività embrionari fondamentalmente è la crescita quindi il fatto che le strutture possono duplicarsi e crescendo possono cambiare i rapporti tra loro senza andare troppo in fondo ha Blacksmith qui un'altra intuizione e su questa mi vorrei soffermare intanto questo è lo schema iniziale dal conceptus che forma ectoblasto mesoblasto endoblasto e si formerà la parte in pratica dorsale ventrale ma quello che ci interessa è il cosiddetto discoendocistico cioè la struttura bilaminare che corrispondeva a questa struttura qui cioè epiblasto ipoblasto e tornando invece avanti il passaggio successivo è la formazione dell'ectoderma dell'endoderma e del mesoderma interposto ora a parte diciamo la formazione della struttura notocordale che varrebbe di per sé solo una discussione diciamo abbastanza approfondita soprattutto perché per gli osteopati capire bene l'organizzazione del sistema notocordale è fondamentale perché è come dice Blacksmith il null point cioè il punto di riferimento per la crescita per qualsiasi tipo di sviluppo che continua ad essere presente in qualche maniera funzionalmente anche nell'individuo adulto cioè sempre presente il nostro punto di quieto o meglio come direbbe il giudice il punto di minima mobilità quello che crea la coerenza che detta le basi della coerenza per le altre strutture che si muovono più velocemente quindi la coerenza delle coerenze congracendo questo Blacksmith qui ha un'intuizione straordinaria secondo me che valrebbe la pena sulla quale vorrei un attimo soffermarvi con voi allora a parte il concetto di ricapitolazione che attualmente utilizzeremo allora il termine lui lo va se lo inventa e lo va a beccare praticamente una sorta di grecismo ma la cosa attualmente quel tipo di terminologia l'encapsis sarebbe veramente una sorta di riproduzione frattalica quindi la una costruzione di forma che viene ricostituita a scale sempre più grandi ora detto questo finito diciamo le prime tre settimane adesso torniamo sull'intuizione dei tre foglietti di cui vi dicevo comincia l'altro periodo che è quello della organogenesi che va dalla quarta all'ottava settimana allora quando arriva l'organogenesi i tre foglietti che noi conosciamo cioè in pratica sono quelli che daranno origine a secondo qualche autore ai cosiddetti 252 tipi di tessuto diversi questi sono praticamente la differenzazione iniziale infatti si parla di organogenesi e in questo momento da quei tre foglietti origineranno delle strutture ben precise ora diciamo prima questo è quello lo schemetto per capire come diciamo dove arriveremo dove si interessa dove si è incentrato lo studio principale di Blesch fino all'ottava settimana e come dice giustamente Gasser che ha scritto insieme a lui biocinetica e biodinamica della differenzazione umana dice che l'unica finestra temporale atta a comprendere lo sviluppo umano va dal concepimento fino all'ottava settimana sviluppo in effetti dopo tale limite per la presenza di tutte le strutture dello sviluppo si esprimerà solo in termini di grandezza ossia di crescita in scala allora questa affermazione è molto interessante e io vi consiglio visto che siamo tra colleghi di leggervi un libro che è stato pubblicato l'anno scorso che si chiama Guarire di Erwin Laszlo e di Pier Mario Beava edizione edizione Enea perché ci sono degli aspetti legati proprio alle cosette riprogrammazioni diciamo gli studi che in particolare Pier Mario Biava fa sulla riprogrammazione cellulare per la regressione del cancro tutto questo si basa appunto su fenomeni studiati che lui prende da studi embriologici fatti ovviamente su animali ma è interessante perché c'è una sorta di parallelismo o Biava non cita mai Blacksmith quindi non c'è una direzione come dire una sorta di per forza connessione però tenete conto che in scienza le cose a volte avvengono contemporaneamente per esempio banale è il fatto che per esempio il calcolo infinitesimale lo scopre Newton ma contemporaneamente l'ha scoperto anche la Germania non è che si parlavano tramite zoom quindi a volte ci sono degli andamenti paralleli perché vi consiglio che leggio questo libro perché sembrerebbe che in questo che l'intuizione che questo uomo ha avuto questo ricercatore ha avuto è legata al fatto che probabilmente in certe forme ad esempio tumorali si riattivino fenomeni di tipo embrionale legati a determinati tipi di periodo e quali sono questi periodi? quelli dell'organogenesi quindi studiare bene cioè saper bene le differenze varie di tessuti per noi tornando invece a un discorso un po' più clinico osteopatico ci serve anche per poter immaginare come i nostri trattamenti vadano a incidere in un recupero di attività funzionale globale cioè di continuità tra le varie strutture che sono e vero sviluppate in maniera separata ma provengono da tre elementi che erano fortemente connessi tra loro cioè la cui esistenza era data proprio dal fatto che uno era in continuità con l'altro avendo però una differenziazione di struttura quindi di espressione genica già a quel livello e poi ci potrebbe essere utile anche in un ambito diagnostico per mettere bene in evidenza quelle che sono le modificazioni di funzione di certi aspetti di motricità rispetto a determinati tipi di segmenti tra loro confrontabili allora dicevamo prima della intuizione allora è molto utile riflettere in questi termini ed è molto utile riflettere in questi termini anche da un punto di vista di anatomia di far rendere l'anatomia ontogenetica un aspetto una riflessione di tipo clinico cioè Blair Schmidt utilizza questi due termini cioè nel corpo fondamentalmente noi abbiamo due tipologie di elementi che si ripresentano sistematicamente e si ripresentano sistematicamente anche nell'adulto nell'individuo formato che sono praticamente i cosiddetti tessuti limitanti e i cosiddetti tessuti interni ora in questa immagine che vedete qui qui siamo praticamente durante la terza settimana quindi si è formata la notocorda e questo è il sulco neurale dove si formerà il tubo neurale questo è lo spazio che è lo spazio amniotico il sacco amniotico questo è il sacco vitellino allora voi potete vedere come praticamente questa struttura qui che è già quindi ectoderm perché il nostro foglietto ha già il nostro embrioblasto ha già tre foglietti germinativi il nostro ectoderma è simile all'endoderma allora dove è simile è simile perché diciamo le strutture sono in continuità le cellule sono in continuità tra loro cioè ogni cellula è connessa alle altre attraverso una giunzione che poi ci sono varie decidure e quando studiavo io erano comparsi le cosette tight junction cioè le giunzioni serrate cioè in pratica tra queste cellule per dirla ancora meglio da un punto di vista diciamo descrittivo perché ce lo fa ricordare ancora meglio più che pensare alle giunzioni serrate pensiamo al fatto che qui non c'è spazio intercellulare cioè le cellule sono una adesa alle altre e perché questo perché sono sono prospicenti uno spazio fluidico e se queste non fossero in questa maniera qui questi fluidi si spargerebbero praticamente tra le cellule scompaginando praticamente la struttura del a questo punto già di una sorta di prototessuto cioè di una unità funzionale fatta da più cellule perché questa queste cellule abbiano una funzione devono essere collegate le une con le altre quindi con le giunzioni serrate quello che vogliamo le junction ok quindi queste strutture questi elementi non hanno spazio intercellulare cioè le membrane prasmatiche sono una addossata alle altre questi si chiamano per blacksmith tessuti limitanti e sono nell'embrione prospicenti spazi fluidici cioè stanno di fronte a dei fluidi che potrebbe essere in questo caso il liquido amniotico e su quest'altro versante il liquido che invece sta nel sacco di tellini dicevamo che quindi l'ectoderma e l'endoderma condividono il fatto di essere un tessuto limitante poi è chiaro che si potrà dire in effetti così è che l'ectoderma ha delle strutture cellulari con attività metabolica inizialmente più attiva infatti le vediamo più cilindriche l'endoderma è un po' meno attivo lo vediamo piuttosto cubico però se è vero che c'è questa differenziazione comunque fanno parte di strutture di elementi che sono accumulabili accumulabili scusatemi nel senso funzionale perché rappresentano dei tessuti limitanti cioè che non hanno spazio intercellularità potremmo dire non c'è la matrice cellulare e tutti questi spazi però cioè scusate tutti questi tessuti ovviamente nell'embrione e nel feto saranno in contatto esclusivamente con i fluidi però questa loro prospicenza in realtà li rende già in qualche maniera pronti a essere in rapporto con ambienti esterni allora se l'ectoderma dà origine in questa zona qui all'epidermide alla cute la cute non avrà più a che fare con l'acqua ma avrà a che fare con l'aria ed è anche lì deve mantenere le sue capacità di congiunzione l'endoderma per esempio l'intestino e le cellule di rivestimento interno sono endodermiche beh queste cellule hanno bisogno di sono comunque in rapporto con l'esterno l'intestino è considerato una struttura interna ma in realtà è in rapporto con l'esterno quindi oppure i polmoni l'attività gli alveoli le strutture bronchiolali sono in rapporto con l'esterno ma anche la diciamo la mucosa tracheale in rapporto con l'esterno che è prospicente per esempio in uno spazio aereo in quel caso ci devono stare delle cellule che sono tra loro in continuità un problema per esempio di patologia che ne so il Crohn la malattia di Crohn determina che all'interno diciamo dell'intestino si crei una soluzione di continuità tra le cellule di un tessuto limitante questo è un buon sistema per diciamo ragionare perché riusciamo a capire lì dove c'è la lesione che lesione è perdita di soluzione di continuità cioè vuol dire che le cellule si interrompono ma se si interrompono che succede? E succede che ha quello ciò che in pratica veniva contattato e se volete separato dal sistema va in contatto con l'altra tipologia di tessuto di cui siamo costituiti e l'altra tipologia di tessuto è il tessuto interno nella fattispecie è il mesoderma allora quando noi per esempio utilizziamo termini derivazione mesodermica derivazione mesodermica tutto giusto tutto preciso origine mesenchimale e quant'altro mi piacerebbe che ci venisse in mente prima di cioè che a quella parola fosse correlato qualcosa di funzionale non il mesoderma in assoluto ma che cos'è il mesoderma cioè che cosa ci interessa a noi del mesoderma beh il mesoderma è quella zona che è definibile come tessuto interno e il tessuto interno come si differenzia dal tessuto limitante intanto perché non è prospicente nulla cioè sta sotto un tessuto interno infatti le nostre strutture di origine mesodermica non hanno nessun rapporto con l'esterno e anzi clinicamente ci sono delle belle degli esempi cioè proviamo a vedere che può succedere in caso di una che ne so di un'infezione ossea quindi un'ostiomerite che è qualcosa di terrificante perché perché il nostro sistema non è assolutamente adattato quel sistema là al rapporto con l'esterno quel tessuto là quel tessuto interno è la nostra matrice quel tessuto interno è la nostra praticamente elemento interstiziale e ogni tessuto limitante ha bisogno di un tessuto interno che gli sia sottostante nell'esempio del cron oppure per esempio che ne so nell'esempio di un bambino in fase di sviluppo il cui intestino è come dicono gli studiosi è ad acciottolato cioè praticamente le strutture limitanti non sono completamente chiuse per cui a volte c'è la possibilità che del materiale vada a finire al di sotto e quindi contattare un tessuto interno che nel caso dell'intestino è la sottomucosa intestinale tutto questo praticamente questi elementi di tessuto interno che sono diciamo tornando ad esempio al cron che succede che c'è una soluzione di continuità per fenomeni infiammatori e delle sostanze creano diciamo dell'esportazione diciamo della oppure la creazione di fenomeni infiammatori anche nella zona sottomucosa e a volte nel crono per esempio si registrano delle lesioni cutanee che sono in pratica l'espressività di materiale infiammatorio che circola praticamente si deposita in altre zone dell'interstizio a questo punto quindi tessuto interno e poi emergono su un tessuto limitante perché? Perché l'intestizio in quel caso cute perché l'intestizio fondamentalmente è il tessuto interno cioè ciò che supporta tutte quante le altre strutture e quindi si differenzia perché? Perché le cellule non sono in continuità tra loro ma possono raggrupparsi in gruppi diciamo in gruppi di cellule oppure possono essere cellule spaiate e in mezzo cosa c'è? In mezzo fondamentalmente c'è uno spazio di cosiddetta matrice extracellulare che noi faremmo bene a cominciare a considerare quasi più come uno spazio fondamentalmente fluidico noi dobbiamo pensare che questo spazio è un fluido più o meno denso in cui troviamo più o meno cellularità e qui ci sono delle intuizioni di Blacksmith straordinari in questa zona può avvenire la canalizzazione cioè in questa zona può avvenire il fenomeno di flussi che si muovono praticamente e determinano che le cellule si dispongano si possano disporre perché non sono tra loro correlate ma possono subire l'influenza di fenomeni dinamici per cui si formano le canalizzazioni che sono in pratica il presupposto della formazione dei vasi Blacksmith intuisce e ci fa chiaramente capire che a differenza di quello che possiamo pensare non ci sono prima i vasi e poi dopo c'è qualcosa che ci entra dentro come succede nella costruzione di un acquedotto di un attacco praticamente all'acquedotto di una casa in cui si mettono i tubi e si fa scorrere l'acqua dove abbiamo deciso in realtà qui è l'acqua stessa sono i fluidi stessi che si muovono e determinano praticamente il fenomeno di canalizzazione un po' come quello che avviene in natura nella formazione di un alvo praticamente fluviale in cui praticamente l'acqua stessa che genera un passaggio all'interno con delle resistenze date o no più o meno dal terreno quindi questo è diciamo una descrizione di quelli che sono gli aspetti funzionali del tessuto limitante poi si formano in pratica cosetti mosaici cellulari in contatto con dei fluidi attiva il lavoro iniziale della costruzione della forma trovandosi interfaccia da compartimenti di fluidi su un lato ed il tessuto interno sull'altro assorbe nutrienti dal sottostante del tessuto interno e rilascia catabolite nei fluidi intercellulari in certi ambiti succede il contrario per esempio nell'intestino quel tessuto limitante assorbe dall'esterno che sarebbe diciamo la zona intestinale quindi per esempio gli alimenti quello che volete e l'immissione è nel tessuto interno lì non abbiamo tempo ma lì è interessante perché è la forma della cellula che cambiando diciamo procede ad un'attività di assorbimento dalla zona esterna verso la zona interna quindi polo anabolico e polo catabolico assorbe nutrienti assotto in un'attività di questo abbiamento induce movimenti metabolici orientati dalla base cellulare verso la superficie libera e simultaneamente movimenti di materiale non stroma adiacente alla base cellulare quindi immissione ad esempio nel tessuto interno di sostanze eventualmente cataboliche che è il concetto che se noi intuiamo bene è fondamentalmente quando noi abbiamo la modificazione della qualità tessutale che cosa è la modificazione della qualità tessutale se non una modificazione di attività metabolica verso per esempio una condizione catabolica con un infarcimento del tessuto interno cioè della matrice per esempio di elementi tipo che ne so vengono in mente gli H+, che sono un classico prodotto di attività catabolica quindi come dicono i protoni che vengono accumulati che si accumulano nella matrice extracellulare in questa matrice extracellulare e noi poi palpatoriamente andremo a vedere cosa beh una tendenza alla cosiddetta gelificazione cioè al fatto che quel tessuto interno possiede meno acqua oppure quel tessuto interno ha dell'acqua intrappolata all'interno praticamente di strutture proteiche se volete cellulari ipercellularità insomma tutti aspetti che possono essere legati a delle alterazioni della funzione di tipo metabolico il tessuto interno invece ha queste altre caratteristiche circondato su tutti i lati del tessuto limitante i cataboliti diventano congesti rappresentano un distrittivo materiale intercellulare che occupa gli spazi intercellulari del tessuto interno stesso ci sono eccezioni nell'intestino questo tessuto interno serve in realtà a assorbire per esempio i chilomicroni quindi i grassi che poi vengono la via delle vie linfatiche ma per avere le vie linfatiche deve avere un tessuto interno perché un tessuto limitante non può avere basi il tessuto limitante mostra una crescita intensa sulla superficie libera come cresce la forma della superficie stessa il tessuto interno viceversa esiste una crescita inerente per lo più in volume pertanto poche sono le cellule per unità di volume e proporzionalmente meno enzimi di crescita se li si compara al tessuto limitante quindi il tessuto interno cresce più lentamente generando quindi una sorta di resistenza questo è interessantissimo perché poi vedremo che certe strutture generano proprio tra un gioco di attivazione di resistenza tra un tessuto limitante e un tessuto interno che determina quindi nei confronti di superficie di crescere e sovrastante il tessuto limitante cioè questo gioco di crescere il tessuto limitante rallentamento del tessuto interno fa una sorta di canto e controcanto che poi dà la forma finale quindi questa è l'immagine che vi dicevo quindi tornando quindi questo è il tessuto limitante questo è il tessuto interno e adesso in questa immagine potete vedere come in effetti si veda piuttosto bene che questo è un tessuto interno questo sarebbe mesoderma perché questo è un tessuto limitante lo si vede dalla parizzata dal fatto che qui non abbiamo praticamente spazi qui neanche abbiamo spazi vedete questo è endoderma non ci sono spazi mentre qui lo spazio tra i geni lo vedete questo è chiaramente un tessuto interno quindi il fatto di avere concettualmente l'idea che c'è un tessuto interno e un tessuto limitante permette praticamente la possibilità di comprendere la differente funzione tra i due tessuti stessi ci siamo ok allora un aspetto molto molto importante quindi a questo punto da sottolineare è che dov'è che Blacksmith intuisce ha la sua intuizione secondo me una grandissima un'ulteriore grande intuizione nel fatto che dice che le cellule per essere attivate quindi per far sì che il suo sistema genetico sia attivato dall'esterno hanno bisogno di uno stimolo esterno e questo stimolo esterno è da cosa determinata lui dice dalla topogenesi cioè da dove si trova quella cellula in quel determinato momento e quindi che tipo di influenze ha dalle cellule che le stanno attorno eventualmente dai tessuti che le stanno attorno e che quindi determinano l'attivazione con stimoli sulla membrana che poi vengono immediatamente diciamo in qualche maniera trasferiti in formati all'interno della cellula stessa attraverso il citoscheletro fino a arrivare al livello del nucleo dove il sistema genetico verrà attivato in determinate condizioni e disattivato in altre condizioni qui poi dopo il linguaggio diventa sempre più complicato ci fu tempo fa un bel articolo di Ingber il quale è il cosiddetto scopritore della tensegrità che in un suo articolo mette una serie di forme del nucleo a partire da una forma a luna piena lui dice poi la paragona praticamente queste forme del nucleo alla luna fino ad arrivare a una sorta di piccola una luna turca uno spicchio di luna in cui dice a seconda delle forme che questa struttura del nucleo prende a seconda delle varie tipologie noi abbiamo a che fare con una diversa espressività funzionale della cellula per esempio nella cellula a luna piena con nucleo a luna piena la cellula si sta preparando all'apoptosi cioè si sta preparando alla sua eliminazione per esempio succede nel sistema autoscentrale si eliminano molti neuroni proprio per evitare il cosiddetto cross-talking cioè l'interferenza con le altre funzioni e invece nell'altro esempio quell'estremo dello spicchio di luna la cellula si sta preparando all'amitosi e tutto ciò che c'è in mezzo determina sintesi proteiche differenziate quindi questo significa che a seconda dell'influenza che c'era sulla cellula dall'esterno ci saranno delle risposte della cellula stessa quindi anche in questo caso la topogenesi inizialmente ti fa differenziare quando si è differenziata la struttura sarà più o meno stimolata da cosa? dall'ambiente in cui si ritrova quella stessa cellula vi ricordo dall'inizio abbiamo detto se una cellula in una blastociste si trova al centro farà parte del sistema dell'embrioblasto se si ritrova in periferia farà parte del sistema del trofoblasto quindi se si ritrova in periferia già il suo destino è verso la formazione sarà una costituente una cellula costituente il sistema della placenta mentre se si ritrova all'interno sarà un costituente prima dell'embrione e quindi poi del sistema fetale e quindi dell'individuo quindi la topogenesi è fondamentale perché poi alla topogenesi per stimolo si seguirà la cosiddetta morfogenesi cioè ci sarà la forma che determinerà che si sarà attuata grazie alla topogenesi e a sua volta poi la forma genererà la tectogenesi cioè la struttura le nostre strutture organiche sono praticamente partono da dove si trovavano che prende un certo tipo di forma e quindi prende un certo tipo di struttura non abbiamo tempo ma questo fenomeno lo accenno semplicemente secondo blacksmith determina il fatto che la tipologia di funzionamento di questo tipo o almeno di espressione di questo tipo attesta la funzione del tessuto stesso cioè come la struttura dove si trova di che forma che forma prenda e che quindi che struttura prende finalmente alla fine determina la funzione del tessuto stesso cioè quindi il tessuto quindi il tessuto l'organo ha una funzione in base al suo strutturarsi e questo tra l'altro se vogliamo fare un po' di polemica è quello che diceva Steele che la struttura governa la funzione poi c'è stato tutto un correre ai ripari su arrivati pompieri dire struttura e funzione sono due dati della stessa medaglia ma fondamentalmente lui scrive la struttura governa la funzione ora ovviamente Steele non ha letto Blacksmith non lo poteva conoscere preverò anche che Steele che ha inventato l'osteopatia in base a delle intuizioni e degli aspetti visionari e probabilmente potrebbe aver anche visionato questa cosa qui potrebbe aver avuto la visione che è lo strutturarsi quindi se a noi la struttura ci mettiamo un infinito sostantivato lo strutturarsi determina la funzione e quindi per gli osteopati è interessante quindi creare le condizioni nel trattamento per cui espressività di funzioni se volete embrionali che possono essere create o diciamo sicuramente che si avvicinano a quello che è elementi iniziali di differenziazione può determinare la ripresa della funzione se non altro creare le condizioni per cui l'interstizio possa essere libero di esprimersi il tessuto interno possa essere libero di far circolare praticamente fluidi e che quindi fanno da supporto ai tessuti limitanti e quindi in condizioni generali rielevare l'attività metabolica allora adesso andiamo verso la parte finale della nostra chiacchierata perché compaiono i cosiddetti campi metabolici tardivi e se volete possiamo fare qualche domanda se c'è qualche domanda bisogna andarci verso questa parte finale basta che attivate il microfono e la fate scusa sono Daniela ciao la idea di Ingberg di cui citavi poco fa quello che parla della forma del nucleo ti ricordi il titolo? dovrebbe essere un articolo che dovrei avere da qualche parte ma adesso non mi ricordo tra l'altro uno dei pochi articoli pubblicati in italiano dalle scienze e dovrebbe essere proprio TenSecreti una cosa di questo genere o TenSecreti ok grazie mille da qualche parte c'è pure l'immagine però Vincenzo posso farti una domanda? dimmi volevo chiedere quando hai parlato del mesoderma che poi dove si forma il tessuto interno il tessuto interno è quello che Blacksmith chiama la fossetta di contrazione e corrisponderebbe scusa al nodo di Hansen allora il nodo di Hansen è un artefatto sì che ci aveva Hansen perché studiava i gli embrioni di coniglio gli veniva fuori questo nodo di Hansen e quindi se dice Brian Freeman è un artefatto quindi non ci sta la fossetta primitiva in realtà è un fenomeno che accade sul sistema dell'ectoderma anzi in quel caso è ancora epiblasto e è il punto in cui l'unico che dà una spiegazione sulla formazione che non si ha aneddotica cioè che non ti descrive avviene questo questo e questo e poi dici ma perché perché avviene così l'unico che ci descrive questa diciamo una forma dinamica plausibile nella formazione della notocorda e in effetti Blacksmith quando dice che la la crescita dell'epiblasto che lui già chiama ectoderma si ribalta praticamente per motivi che non ti sto a spiegare all'interno della fossetta primitiva e forma la prima la porzione più alta della notocorda quindi la fossetta primitiva è lì dove l'ectoderma si ribalta e in effetti forma la prima porzione della notocorda che secondo Blacksmith si sviluppa in senso craniocaudale ok solo giusto per rammentarti che la notocorda tu la puoi riferire in una struttura adulta a partire dagli elementi che stanno cioè dalla basi spenoide quindi al di sotto della cella turcica e poi lungo tutta la struttura fino a livello del coaching grazie capito? si grazie ok allora se non ci sono altre domande andiamo a vedere i campi senti? si ci sono domande dimmi si no volevo fare una domanda sul hai parlato del fatto che sono fatti dal 98% di acqua ma così tanto cioè sapevo un po' meno se fai una valutazione diceva il bond se fai una valutazione se fai una valutazione di peso siamo al 70% no? se però fai una valutazione di tipo chimico tutte le molecole del nostro corpo del 98% ma forse anche più hanno l'acqua quindi un conto è l'aspetto se vuoi legato al peso quindi alla forza di gravità acqua un conto è invece la componente proprio della nostra diciamo molecolare che invece è fatta del 98% di acqua ti devo dire che questo è un argomento che ci appassionerà oltre ci sono questi due grandi filoni che vedo l'epigenetica un po' più complicato e un altro aspetto relativamente complicato che è legato all'acqua per esempio il mio caro amico Peppino Vitiello insieme a Jean-Luc Montagné hanno dimostrato che per costituire un elemento di tipo strutturato per esempio una doppia elica di DNA o un'elica di DNA c'è bisogno di una cosiddetta acqua uso un termine che a lui non piace in trattino formata cioè in pratica se l'acqua ha un certo tipo di struttura di oscillazione si formano delle strutture acquose che vengono chiamate di quarta fase cioè che hanno una struttura simile a quella che è un cristallo quindi sta tra il liquido e il solido e questa struttura fa come dicono gli americani da template cioè fa da praticamente forma per la strutturazione del DNA noi siamo abituati a pensare che per esempio l'acqua sia adatti al tessuto in realtà probabilmente quel tipo di acqua quel tipo di acqua in particolare che è classico degli elementi biologici della quarta fase acqua zonale o covano che chiama acqua strutturata praticamente le nostre forme quindi e ovviamente in un tessuto interno è bello pensare appunto che sia pieno di quest'acqua più o meno strutturata acqua zonale che fa parte del nostro sistema interstiziale ci siamo? Allora andando avanti quindi Saverio Dica Allora ricollegandomi proprio a questa ultima diciamo spiegazione possiamo possiamo dire che il discorso relativo alla funzione che comunque va a stimolare la funzione potrebbe dipendere il DNA da questa informazione dell'acqua? Sì sì probabilmente sì Quindi il DNA in realtà è l'acqua informata il DNA l'esperimento che è stato condotto che è stato pubblicato su un journal di fisica insieme a Montagnier praticamente legato al fatto che è stato calcolato diciamo l'emissione di onde elettromagnetiche da parte del DNA del virus che nel caso è il virus dell'HIV quindi è stato fatto un codice elettromagnetico questo codice elettromagnetico è stato inviato all'Università di Salerno al laboratorio UNESCO di Parigi su un'acqua che aveva dell'acqua e i nucleotidi cioè i mattoni per costruire il DNA quel tipo di informazione elettromagnetica quel campo di coerenza che è arrivato su quell'acqua ha fatto formare quindi è comparso il virus ecco perché quando si dice i campi elettromagnetici la comparsa di certe cose ci sta come discorso chiaro che questi sono ancora discorsi in icchia e tra l'altro se qualcuno ha avuto modo di sentire le interviste di Montagnier a un certo punto ultimamente che ha detto che il coronavirus ha le sequenze dell'HIV insomma queste cose qui e secondo lui è un prodotto di chimerizzazione quindi attività di laboratoristiche dice ma lei come combattere beh no io farei tutta un'altra cosa lavorerei con dei campi elettromagnetici quelli l'hanno guardato e ha detto va bene il ragazzo ce lo siamo persi però sapendo la storia sapendo cosa c'è dietro mi è venuto da ridere perché ho pensato in effetti la sua risposta è logica perché lui pensa appunto che dietro c'è un'attività di tipo elettromagnetica nelle strutturazioni di virus c'è un'attività elettromagnetica d'altronde i virus per formarsi hanno bisogno di un ospite e quell'ospite perché è l'ospite che gli dà tutte quante le possibilità qualcuno dice pure che potrebbe essere detriti di DNA o RNA dei sistemi più complessi questo sia che si parli di zoonosi di passaggio di spillover come si dice adesso di un animale all'uomo ossia che si forme all'interno dell'uomo stesso o comunque quando si forma dell'animale qualcosa deve succedere qualcosa si deve modificare e che cosa che si può modificare si può modificare soprattutto l'ambito fisico noi abbiamo come diceva del giudice purtroppo una medicina o comunque una biologia ancora troppo concentrata sugli elementi chimici cioè come disse un bell'articolo che ha scritto Emilio del giudice e per il momento ha vinto il partito delle molecole e il partito delle molecole poi si porta dietro tutta una serie di idee che sono di tipo quello che vedete è amplificato c'è il virus quindi serve un farmaco per bloccare cose cioè non c'è un'idea ed è tutto chimico tutto basato sulla chimica su interazione molecole l'anticorpo che si collega però lì c'è qualche altra cosa probabilmente prima di questo c'è un aspetto fisico che per il momento ancora non è tenuto in considerazione il terreno potrebbe essere quindi l'elemento il terreno che è Cinzia ciao sì sì il terreno è ma lo diceva Pasteur alla fine della sua esistenza a un certo punto dopo aver fatto una serie di scoperti lui ha detto il terreno è tutto il battere è niente quindi non dovrebbe fatto anche questo discorso allora Vincenzo Vincenzo Elia sì posso farti una domanda soprattutto un fatto di nomenclatura e quindi di ordine per me per comprendere meglio allora tu hai parlato di ectoderma e di endoderma entrambi tessuti limitanti quindi organizzati a parizzata senza spazi intercellulari poi hai parlato anche di tessuto interno e cioè di mesoderma sì allora nella mia testa tessuto interno ed endoderma in qualche modo potrebbero creare una confusione non sarebbe meglio parlare quando ci riferiamo al tessuto interno non sarebbe meglio parlare di tessuto mediale cioè in qualche modo imprigionato tra i due limitanti e per questo mediale no perché il concetto di esterno è proprio il concetto di esterno con ciò che viene dall'esterno per esempio se tu prendi un alveolo polmonare è vero che sta dentro ma in rapporto con l'aria che arriva dall'esterno sì sì questo l'ho capito allora è quell'esterno lì lo devi intendere in quel termine lì insomma per cui il termine è limitante non ci deve porre in tentazione il fatto che l'endoderma sta dentro lo dobbiamo chiamare interno proprio perché dobbiamo tener conto precisamente che l'endoderma è in rapporto con l'esterno quindi questo è ok sì grazie è per questo che lui lo chiama tessuto limitante no? che poi se consideri in un embrione o comunque in un feto che ne so l'acute ha gli stessi tipi di rapporti con il liquido amniotico di quanto ce l'ha praticamente l'esofago che ingoria continuamente il liquido amniotico o i polmoni che sono pieni di liquido amniotico ok? ok grazie prego allora andando avanti quindi andando sui campi metabolici tardivi possiamo vedere una serie di illustrazioni che Blacksmith ha fatto che sono i cosiddetti sticker lui praticamente disegnava la lavagna questi omini che rappresentano le forze ora per esempio perché si formano come fa a formarsi lo stomodeo quindi l'apertura della bocca oppure come fa a formarsi il canale anale piuttosto che l'apertura oretrale tutto questo è dovuto al fatto che esiste un cosiddetto campo di corrosione quindi campo vuol dire attività metabolica che viene definita di corrosione perché la corrosione è quello che si verifica tra due tessuti limitanti che sono uno apposta all'altro in questo caso sarà ectoderma contro endoderma che in determinate zone si vengono spinte una contro l'altra determinando l'incapacità all'attività metabolica degli stessi tessuti perché tale la forza di pressione di una contro l'altra che si crea l'apertura quindi dov'è che noi abbiamo la possibilità di creare le aperture nei cosiddetti campi di corrosione un classico esempio di apertura a livello della membrana bucofaringia è la formazione quindi del cosiddetto stomodeo che è il precursore della nostra zona buccale e la stessa cosa avviene nella cosiddetta membrana cloacale dove per altri motivi ci sarà una suddivisione una parte anteriore e una parte posteriore in cui ci sarà la formazione da una parte dell'apertura uretrale e dall'altra parte dell'apertura del canale canale ok quindi questo è in pratica il cosiddetto campo di corrosione un altro campo metabolico allora qui noi abbiamo avuto un po' di problemi di traduzione perché suction field campo di suzione non era molto elegante risucchio è brutto come termine però quello che ci sembra più vicino a una traduzione italiana adeguata il campo di risucchio è lì dove in pratica un epitelio allora qui leggete un tessuto limitante cresce più rapidamente perché è risucchiato viene richiamato se viene chiamato il tessuto limitante dietro che cosa si porta si porta uno stroma praticamente lo stroma che cosa è traduzione tessuto interno per cui in pratica in questo campo di risucchio porterà un tessuto limitante a portarsi dentro una sorta di anima di tessuto interno nel quale però scorreranno dei fluidi perché se viene risucchiato quindi c'è questo tipo di crescita all'interno ci sarà un richiamo di fluidi e questi fluidi praticamente saranno dei dotti e le attività praticamente delle cellule limitanti saranno delle strutture endocrine o isoline cioè le ghiandole e tutte le ghiandole si formano in questa maniera vi è una sola eccezione che non sono ancora riuscito a comprendere che comunque Blacksmith non lo descrive che è l'attività endocrina della corticale del surrene perché la corticale del surrene che è una chiara attività endocrina ha una diciamo uno sviluppo su base mesotermica il tessuto interno però quella è l'unica eccezione sono tutte le altre ghiandole o sono di tipo ectodermico o sono di tipo endodermico e i dotti invece sono delle strutture che provengono dal tessuto interno qui entriamo invece in un fenomeno diciamo un campo metabolico caratteristico delle strutture di tessuto interno cioè quando si va sui setti campi di condensazione non può che essere un tessuto interno perché perché esistono delle forze che determineranno praticamente un avvicinarsi delle cellule di un tessuto interno le une alle altre con eliminazione di acqua cioè l'acqua viene allontanata quindi le cellule del tessuto interno vengono addossate le une alle altre e quando vengono addossate le une alle altre cominceranno a avere un contatto tra cellule che determinerà una modificazione della cellula stessa la cellula stessa quindi avremo da una parte l'acqua che si sposta quindi viene spostata più esternamente c'è un impacchettamento di cellule che determina il ravvicinarsi delle cellule quando queste cellule si avvicinano e se quel tipo di forza continua a essere esercitata dal campo di condensazione si passa a un campo di compressione cioè le cellule sono spinte una contro l'altra nel caso di Blacksmith dice come un palloncino d'acqua che viene spinto contro un altro palloncino d'acqua e si spostano si deformano e quella deformazione cellulare prende la forma di quelle che noi conosciamo essere delle cellule che sono i cosetti condroblasti cioè cellule cartilagine giovani quel tipo di quindi quel tipo di stimolazione sulla cellula ha fatto sì che si siano attivati zone di genoma disattivate altre e quindi quella cellula cosa fa? comincia a produrre matrice cartilagine e dalla compressione si passa esattamente all'opposto al cosiddetto campo di spinta e nel campo di spinta si ha la formazione del nostro cosiddetto condroscheletro che è fondamentalmente il 90% e più della nostra strutturazione scheletrica che parte appunto da cartilagine che poi si trasformerà in osso attraverso il fenomeno della cosiddetta ossificazione encondrale cosiddetta ossificazione indiretta la stragrande maggioranza del nostro scheletro è formata dai campi di spinta quindi per avere un campo di spinta però che cosa deve avere? deve avere una condensazione una compressione e quindi una spinta ai lati di un campo di spinta il tessuto che ancora ha molte fluidi e compagnia belle quindi se il campo di spinta cresce ai lati avremo il tessuto interno sarà stirato sarà in pratica disteso e si sarà si potrà distendere fino a un certo punto creando quello che qualcuno chiama campi di ritenzione ma l'abbiamo preferito definire tensione bilanciata cioè perché questo sistema si lascia stirare e poi crea una sorta di tensione fino a un certo punto in modo tale che rallenta il campo di spinta e dà la possibilità della formazione di tutte le strutture praticamente che sono ad esempio tendini ligamenti aponevrosi ma non ultimo il fatto che se il campo di tensione bilanciata va a prendere a incappucciare un campo di spinta gli crea una specie di cuffia praticamente che sarà opposta a un altro campo di spinta con un'altra cuffia di tensione bilanciata si formano le articolazioni e quindi lo spazio articolare le varie strutture che noi conosciamo come essere appunto essere le strutture articolari quindi vedete che come le varie strutture le varie funzioni sono legate a dei campi dei specifici a degli specifici campi metabolici i quali campi metabolici poi si esprimono in determinati tipi di tessuti che possono essere o tessuti limitanti o tessuti interni è ovviamente un gioco tra i due tra i due rapporti un tessuto limitante con un tessuto interno quindi i campi di tensione bilanciata sono quelli che ti danno la nostra strutturazione sotto forma di aponevrosi quello che volete non ultimo anche le aponevrosi e cioè per esempio che ne so l'etimisio il perimisio è l'endomisio dei vari muscoli lì dove il campo di tensione bilanciata ha la possibilità di dilatarsi cioè di distendersi quindi in questa tensione c'è anche la possibilità di un po' di dilatazione lì si formano in pratica i muscoli quindi i muscoli sono per Blacksmith nell'embrione l'elemento più pigro che c'è perché è l'ultima struttura che si forma l'elemento più dinamico che noi conosciamo nella vita di relazione è in realtà embrionalmente l'elemento che si forma per ultimo se non c'è prima una condensazione a compressione se non c'è un campo di spinta che fa seguito alla condensazione a compressione se non c'è un campo di tensione bilanciata che si in qualche maniera si accorda sia ai lati del sistema del campo di spinta non si forma i muscoli e questo è interessante perché tra l'altro non abbiamo tempo ma ci fa ci fa anche riflettere su quella che è la funzione muscolare che probabilmente non è proprio come quella che noi conosciamo ma quella che è la fisiologia di scorrimento actinamiosina non serve tanto ad accorciare l'articolazione ma quanto ad allargare la struttura per creare poi una tensione sul campo di tensione bilanciata che poi in effetti strutture tendine aponevosi che poi sono gli effetti effettori diretti della chiusura angolare delle articolazioni quindi ho qualcosa che si allarga e fa tirare strutture di tipo ligamentoso movimento articolare l'ultimo un argomento piuttosto interessante per noi in particolare i nostri opati perché ci fa capire come non che c'è una parte voi sapete perfettamente di strutture del nostro sistema scheletrico che non originano praticamente da un'ossificazione indiretta cioè che non hanno non hanno una cartilagine che precede la loro formazione ma diventano direttamente ossano la cosiddetta ossificazione diretta che sarebbe l'ossificazione membranosa e Blacksmith ci descrive questo fenomeno come un campo di detrazione o se volete frizione lì dove in pratica nel caso per esempio sono fondamentalmente questo tipo di organizzazione la troviamo nella volta cranica lì dove la cuffia di tessuto interno che è la meningia primordiale viene spinta dalla crescita del tubo neurale nel movimento ci sarà una sorta di discrasia spaziale tra la parte più interna di tessuto interno che sta attorno al tubo neurale e la parte più esterna lì dove avviene questa differenziazione di spinta si creano delle spiccole osse che determinano la formazione dell'osso membranoso quindi osso membranoso che ha una strutturazione completamente diversa rispetto all'osso incondrale che invece ha bisogno di qualcosa che comprime banale perché la nostra base cranica è di tipo cartilaginio e quindi ha una ossificazione indiretta ma perché da una parte viene spinta dal tubo neurale in crescita e dall'altra parte ci sarà un cuore in formazione che creerà la controspinta rispetto alla spinta del sistema del tubo neurale in crescita l'elemento il tessuto interno che si pone che sta lì tra questi due elementi viene compresso viene condensato compresso e poi reagirà sotto forma di strutturazione della base cranica invece il pallone che si gonfia all'esterno questa maniera qui non ha controspinte ma resisterà solo a questa tensione detrazione si forma la volta cranica quindi in pratica ossificazione di tipo diretto e chiudendo la nostra andando verso la fase finale della nostra chiacchierata c'è da dire che l'anno due anni fa nel 2018 questo gruppo il capo di tutti questi signor Tiz tira fuori questo straordinario articolo per noi secondo me è estremamente un momento di notevole avanzamento anche perché ci fa comparire molte cose e lì possiamo ritrovare anche degli elementi dell'insegnamento di Blacksmith all'interno di questo di questo report di questo studio molto molto interessante tenendo conto che l'autore non conosce Blacksmith lo sappiamo di far certo ma nella sua descrizione possiamo riconoscere certi fenomeni certe intuizioni che Blacksmith aveva già in qualche maniera detto ovviamente non in questa maniera così ordinata e straordinariamente efficace come fa Tiz anche perché Tiz ha l'intuizione di utilizzare il cosiddetto laser con focale un'attrezzatura in maniera diversa rispetto a quella che è stata fatta prima e scopre che fondamentalmente noi abbiamo un'unica struttura che noi abbiamo chiamato matrice abbiamo chiamato derma abbiamo chiamato fascia ma che fondamentalmente è una rete di bande collagene piene di fluidi che lui chiama spazi fondamentalmente pre-limpatici e tutte queste strutture sono osservabili nella nel derma nella struttura del nostro oma periarticolare periarteriale cioè scusate torno ai vasi tra l'altro questo struttura periarteriale ne parla un autore Angus Cathy che negli anni 50 60 insegnava anatomia al college di osteopatia di Philadelphia ha scritto bellissimi articoli sulla fascia quindi anzi in quegli articoli dice proprio che è uno degli effetti di assorbimento dell'onda sfignica del movimento delle arterie è data proprio da questo sistema fasciale se volete periarteriale che quindi potremmo chiamare interstizio nella sottomucosa dei visceri quindi tutto ciò che è al di sotto del per esempio dell'epitelio funzionale o del tessuto a questo punto limitante funzionale sta al di sotto questa sottomucosa è interstizio nell'albero bronchiale muscolatura bronchiale tutto ciò che è al di sotto degli elementi del tessuto limitante endodermico che forma l'epitelio bronchiale nei piani muscoscheletrici nelle fasce dei piani del sistema muscoscheletrico sono tutte la stessa identica cosa ma che cos'è quindi alla fine tutta questa cosa qui il tessuto adiposo è tutto questo e lui dice tutte queste strutture sono in continuità tra loro poi là nell'articolo se avete voglia di andarvela a vedere ci sono degli aspetti straordinari per esempio si vedono come in determinate zone della sottomucosa per esempio in questo caso dell'intestino perché c'era un'asportazione per un tumore lo studio della sottomucosa di questo intestino che era stato in qualche maniera asportato aveva notato la presenza di macrofagi che avevano macchie di inchiostro e questo corrispondeva al fatto che il soggetto aveva dei tatuaggi ovviamente i tatuaggi non ce li aveva a livello intestinale ma ce li aveva sulla cuta o qualche parte bene quel macrofago aveva potuto viaggiare all'interno del sistema dell'intestizio perché non c'è soluzione di continuità all'intestizio per comprendere bene questo fenomeno che è dato fondamentalmente da una serie vedete già l'abbiamo già detto fondamentalmente da strutture che sono piene di fluidi e dice che la presenza di fluidi quindi acqua che potrebbe essere un'acqua o strutturata o un'acqua bulk che praticamente scorre hanno delle grosse implicazioni per la funzione e anche l'espressività patologica e lui a un certo punto utilizza il termine di shock absorber cioè in pratica tutto ciò che attività metabolica energia se volete traumi quello che volete anche che ne so un stress emozionale che fa aumentare la nostra la tensione l'incremento della funzione per esempio del sistema ortosimpatico determina delle modificazioni che devono essere assorbiti da questo sistema e quando questo sistema non comincia a funzionare più noi lo ritroviamo sotto forma di fenomeni infiammatori infiammazione neurogena per esempio la funzione somatica e tra l'altro queste sono strutture che hanno una loro dinamica cioè che si possono muovere cioè si dilatano e si contraggono quindi probabilmente ci sono dei flussi non voglio stare troppo a insistere ma qui per esempio ci potrebbe essere dell'acqua strutturata che per sua natura genera il flusso ora questo tessuto vede nel tessuto interno le cellule si allontanano progressivamente le une e le altre in modo da disporsi in una sorta di rete reticolo nell'intestizio della cellula si accomuna la teoria di quantità di sostanza intercellulare acquosa riducendo la compattezza dell'intero aggregato di cellule in qualsiasi stadio la presenza di tessuto interno poco compatto è invariabilmente risultato di un processo di perdita di compattezza del tessuto ciò avviene per esempio nel mesoblasto del conceptus nel mesoderma del disco germinativo e nel mesenchima dell'embrione nei campi di tessuto poco compatto sostanza intercellulare contiene sotto prodotti acquosi del metabolismo ora avendo letto TIS nel 2018 questo è quello che dice Blacksmith negli anni 60 quindi lui aveva già intuito che la componente acquosa era fondamentale nella strutturazione del tessuto interno tant'è che dice che i liquidi situati nei vacuoli dell'intestizio che inizialmente sono goccioline presto tendono a coalescere poiché inizialmente i vacuoli hanno una forma sferoidale le cellule adiacenti che presentano superfici con queste sono le deformazioni che descrive Blacksmith di una cellula per la presenza di acqua attorno quindi vedete quel tessuto interno in realtà ci fa comprendere benissimo anche ci può far ci dà la possibilità di una lettura attenta e se volete anche clinicamente valida per quanto riguarda diciamo un articolo come quello dell'intestizio che secondo me tutti noi dovremmo ben conoscere ok io mi fermerei qua se ci sono domande Vincenzo sono Marco da Firenze ciao l'intestizio si potrebbe classificare quasi come un organo allora nella pubblicità che è stata fatta tutti quanti dicevano che in effetti l'intestizio è una sorta di nuovo organo ma mi piacerebbe più che pensare al nuovo organo mi piacerebbe che tu pensassi in termini di elementi di tessuto interno quindi tessuto interno nel quale tutti quanti gli organi si sono sviluppati è come se fosse più che l'organo è come se fosse il substrato nel quale tutti gli altri organi possono trovare la loro formazione ok quindi perché la parola organo ti induce a creare una sorta di separazione no? infatti la decidura organismo non è che sia il top come decidura ora se ti interessa per forza utilizzare sto termine si va bene possiamo dire che è un organo qualcuno ha detto che è un nuovo organo però fondamentalmente quello che è interessante qui è l'elemento che questo presunto organo ha lo stesso tipo di funzione sia che sia una sottomucosa vescicale piuttosto che sia una fascia di un muscolo di un bicipite femorale mi segui? cioè ha la stessa tipi di funzione questo per noi è interessantissimo perché noi andiamo cercando proprio l'unità funzionale e il ripristino della funzione globale è un elemento di comunicazione fondamentalmente sì però perdi l'idea meccanicistica che noi abbiamo cioè perché attenzione perché qua dopo si comincia perché se io tiro l'orecchio mi si alza poi la gamba e creo la catena muscolare tutte ste stupidaggini qua no e invece questo è l'elemento che ti dice che lo stesso tipo di funzione che tu poi hai a livello di che insomma sotto mucosa bronchiale piuttosto che muscolare se tu riesci a ripristinare a partenza da qualsiasi tipo di struttura tipo che ne so perché tu le mani le dovrai mettere in un punto specifico ma quello che dovrà essere il passaggio è non la catena ma il ripristino di un'unica funzione ok? sì grazie prego altre domande? ciao Vincenzo sono al Chiantello oh il Chiantello ho una domanda? beh io non lo so se tu la puoi fare comunque va bene sono una cosa forse me lo sono perso nella spiegazione l'effetto frenante dell'arteria è corretto dire che gioca un ruolo nella costituzione delle articolazioni? assolutamente sì in particolare degli arti degli arti inferiori e superiori e inferiori è fondamentale perfetto grazie mille prego ciao Vincenzo sono Dario Damiano ciao Dario senti Bruce Lipton parla di epigenetica nel suo libro la biologia delle credenze sì quanto può diciamo per quello che non so puoi pensare tu intervenire diciamo un'informazione di credenza importante che va ad alterare quello che sono la formazione o le proteine all'interno di una cellula allora qua stuzzichi il mio lato ombra e il lato angelico cioè Montalbano quando Montalbano 1 Montalbano 2 allora da una parte quello che dici tu è sicuramente quello che dici tu mi stimola sì sì sicuramente è così poi però c'è un'altra parte di momento cioè cominciamo a fare i psicologi della Valbrembana allora il discorso è noi dobbiamo cominciare a studiare bene per esempio lo stress o comunque il carico allo statico che può essere sia di origine traumatica cioè se tu vai sotto una macchina c'è un carico allo statico sia se temore che non so c'è i problematiche di tipo relazionale c'è un carico allo statico per l'osteopata fondamentalmente il passaggio verso un ripristino di salute è sempre attraverso un recupero della funzione globale cioè un ripristino di continuità di studiare è ovvio che a un certo punto per noi poi è importante sapere che lì c'è qualche problematica relazionale ma perché non perché dobbiamo risolvere la problematica relazionale come qualcuno dice che sono emozionali e compagnia bella ma perché dobbiamo sapere che quella condizione lo mette in condizione di ripristinare una condizione tessutale alterata non so se risponde alla domanda tieni conto che per esempio se tu fai delle valutazioni con l'artre di variabilità per esempio con la variabilità della frequenza cardiaca c'hai delle onde praticamente che compaiono lente che compaiono in condizioni di perfunzione orto simpatica che è alla base di fenomeni infiammatori si associano spesso alle alterazioni della funzione delle onde ad alta frequenza quindi very low low sarebbero praticamente le funzioni orto simpatiche le high frequency sono quelle parasimpatiche qualcuno parla di very low devo controllare la letteratura e quelle sono vengono attribuite all'attività allora nella descrizione che mi hanno dato viene iscritta l'attività frontale o prefrontale io ho qualche dubbio perché se c'è un'attività di very low secondo me è più una roba limbica perché per frontale comunque sto lasciando questo tipo di discussione sì voglio dire se io per esempio mi sovraffatico da un punto di vista fisico sicuramente avrò delle onde lente se sono sovraffaticato da un punto di vista mentale avrò delle onde molto lente ma alla fine poi è il sistema orto simpatico che funziona troppo a discapito poi di una funzionalità di tipo parasimpatica quindi noi che sia uno o sia l'altro fondamentalmente intervento quello è cioè non è che dobbiamo l'unica cosa ecco se scopriamo che se abbiamo un'intuizione che c'è una problematica di tipo psichico è chiaro che possiamo supportare il paziente dicendo guardi noi le diamo una vana da un punto di vista fisico però ovviamente le deve fare altre da un psicologo sì sì no quello da un psicologo facesse un po' quello che vuole vabbè quello che vuole sì insomma ecco c'è qualcuno che ha risolto tutto facendo i percorsi santiago non so va bene va benissimo ognuno usa i suoi metri esatto ma no quello che volevo sapere da te da un punto di vista anatomo funzionale perché lui dà una descrizione anche abbastanza diciamo specifica riguardo al fatto che tu avendo una credenza di quel genere perpetrei sempre un tipo di schema che poi va funzionalmente ad alterare quello che sono appunto questo diciamo questo equilibrio però vedi se non vado errato scusate se ti interrompo quello che dice lui è molto relativo all'attività della membrana plasmatica quando lui descrive il sogno l'intuizione che c'ha dell'hamburgo no che era il panino che era quello che basta esatto però parla di neuropeptidi che vanno ad alterare la membrana cellulare esatto infatti è molto cellularizzato con il suo ragionamento invece a me piacerebbe più parlare in pratica di tessuti di tessuto interno di tessuto limitante e tieni conto quella parte diciamo diciamo strutturale probabilmente embriologica il tutto diciamo l'ubiquità del fatto che tutto quanto funziona insieme probabilmente non ci era ben chiaro no perché per esempio è banale ma l'innervazione tu ce l'hai fondamentalmente a carico del sistema della matrice cioè i nervi non vanno sulle cellule i nervi vanno sulla matrice quindi per esempio l'attività interocettiva è nella matrice cioè sai che cosa sta succedendo a una cellula ma perché sai cosa sta succedendo nella sua matrice cioè il nostro sistema limbico interocettivo quindi come dicevi è l'ambiente stupido nel senso che diceva è importante l'ambiente in cui ci si trova quindi poi tutto quanto funziona anche in base a quello anche nella formazione dei tessuti come abbiamo detto esatto l'aspetto relativo importante per noi poi comunque metterci le mani e vedere se per esempio se quel sistema di shock absorber funziona praticamente come un tutt'uno oppure invece funziona separatamente ok ok va bene ti ringrazio per tutto il suo stile ciao grazie ciao Vincenzo posso una domanda per favore sì sì volevo chiederti ma quel meccanismo di cui parlavi inizialmente con la perdita di continuità del tessuto limitante la conseguenza sovraesposizione del tessuto interno mi chiedo può essere alla base aspetta che mi sono perso mi ripeti un attimo il concetto sì mi ricordo che tipo a inizio della presentazione hai parlato che un tessuto limitante delle volte può perdere della continuità e quindi in qualche modo esporre il tessuto interno a degli agenti a cui non dovrebbe essere esposto esatto e mi sono chiesto nella differenziazione che avviene tra una cellula sana e una cellula tumorale in cui la cellula tumorale ha un metabolismo triplo rispetto a una cellula normale è possibile che localmente si possa creare come contesto che favorisce la formazione di una cellula tumorale quel tipo di schema cioè una perdita di continuità di un tessuto sovra una sovraesposizione allora non è proprio così in rapporto così diretto non lo sappiamo ci sono due possibilità uno l'attivazione di fenomeni di tipo organe genetico secondo Biava in determinati momenti che non dovrebbero esserci tant'è che tu hai dei tumori più o meno differenziati e lui è riuscito a classificarli in base al tipo di fattore di crescita di differenziazione più o meno precoce cioè se il fattore di crescita di differenziazione è molto più vicino alla quarta settimana di sviluppo a quello che succede nella quarta settimana di sviluppo hai un tumore molto indifferenziato se invece ce l'hai verso più l'ottava settimana di sviluppo c'è un tumore più differenziato differenza tra un melanoma e un tumore alla mammella per esempio a rene però c'è un altro ambito di ricerca che si chiama mesoscopia che anche questo è inerente ai cosiddetti studi di sistemi in cui lo studio e che fa anche Biava in qualche maniera non è più indirizzato alla cellula tu sai che lo studio dei tumori praticamente si è indirizzato sulla cellula c'è l'oncogene ti ricordi? l'oncogene si rompe quello si rompe quell'altro e la cellula non risponde più ma in realtà sono state fatte delle sperimentazioni in cui cambiando l'organizzazione strutturale intorno al tumore si è avuto una regressione del tumore certo in vitro però hai una reversione quindi vuol dire che quelle cellule sono importanti nella loro rapporto tra loro ecco si chiama infatti mesoscopia perché sarebbe una sorta di condizione di mezzo quindi non più la cellula ma c'è anche l'altro c'è un gruppo italiano un certo bizzardo quindi localmente si che ha proprio un'alterazione di zona ti faccio una domanda che forse può essere scusami se ti interrompo infatti quando si dice l'acidità la matrice la basicizzazione l'ipossia del tessuto che genera poi infiammazione che poi ha la base del tumore che è stata la grande scoperta negli ultimi 20 anni negli ultimi 10 anni cioè che dietro un tumore c'è sempre una condizione di infiammazione più o meno di più o meno basso grado e quello è praticamente una tipica manifestazione di incapacità della matrice di funzionare in maniera adeguata dimmi volevo chiedere se è stato visto una sorta di campo metabolico che potrebbe essere descritto come favorente c'è un'idea di campo metabolico no per il tumore per il tumore no però quel discorso che fabbiava dei fattori di attivazione cioè la presenza di fattori di crescita e differenziazione dei cellule staminali quello ha a che fare con i campi metabolici lui non lo sa ma fondamentalmente quello è una cosa di quel genere ok perché potrebbe essere anche vista come cura poi se uno trova quello che lo fa crescere allora infatti loro utilizzano questi fattori degli antifattori bloccano ma lì sarebbe interessante fare un discorso anche di cambiamenti di paradigma funzionale ok l'ultima piccola forse provocazione da totale inesperto quanto riguarda la biodinamica e tutta la percezione biodinamica e solo blacksmith tutto il resto ok movimento presente allora parliamo di questo un esperto magari anche solo a livello teorico riesce a percepire un alterato campo metabolico locale molto intenso come potrebbe essere quello che nutre un'ipotetica cellula tumorale farsi avere una percezione non dico poi a livello diagnostico dico lì c'è quello ok però a livello valpatorio si percepiscono no perché la nostra diagnosi non ci permette di fare questo quello di cui puoi avere intuizione ma è un'intuizione che non può essere classificata ma è data dal processo terapeutico che si staura quello ti può dare delle indicazioni però attenzione non è più una diagnosi osteopatica ti va ti indirizza verso in pratica una alterazione della vitalità che noi possiamo percepire e tu puoi fare con un ragionamento più o meno medico-biologico dire ho il sospetto che ci sia qualcosa lì ok grazie mille vincenzo posso chiederti prego quando Blacksmith parla di fenomeni di permeazione tra il tessuto interno e il tessuto limitante noi lo potremmo considerare come l'inizio o la spiegazione di tutta la vascularizzazione del corpo allora sì e no nel senso che sì perché quello poi crea dei flussi e questi flussi creano nel tessuto interno creano la base per delle canalizzazioni però non sempre le canalizzazioni sono dovute alle permeazioni o quelle che lui chiama parmeazioni che non si è mai capito che cosa intendo non capisco bene sarebbe un'altra cosa per esempio il fatto che il tessuto del fluido vada all'esterno verso l'interno e in quel caso praticamente tu hai delle canalizzazioni anche che precedono le permeazioni allora come spieghi il fatto che ma adesso non so se il paragone è giusto che il sangue viene considerato tessuto interno e va poi a vascularizzare anche dei tessuti limitanti come l'ectoderma e l'endoderma mi viene in mente scusami la funzione degli epatociti che vanno a dare tutta la funzione del fegato come riesco a spiegare questo fattore che un tessuto interno vascularizza un tessuto perché la vascularizzazione gli arriva praticamente da sotto e lo contatta non va il vaso non va tra le cellule del tessuto limitante gli va sotto così come per esempio l'innervazione gli va sotto per esempio immagina che so Pacini oppure anzi ancora meglio Merkel e Meissner i trasduttori quelli stanno nel derma a contatto con l'epidermine quindi non stanno nell'epidermine ma stanno nel derma a contatto con l'epidermine i vasi fanno la stessa cosa non vanno nel tessuto limitante ma stanno in prossimità del tessuto limitante va sempre nel tessuto interno Vincenzo ti dia una domanda allora Vincenzo prima abbiamo parlato di tessuto interno e ne abbiamo parlato come nuovo organo ma ancora meglio intestizio intestizio hai parlato di unità funzionale per il ripristino della funzione globale per me è illuminante questa definizione e quindi mi chiedo ma è questo il luogo privilegiato quindi di realizzazione del trattamento osteopatico specialmente in approccio movimento presente qui e te? Allora siccome probabilmente uno degli elementi principali è quello della nostra capacità è quella di modificare i flussi fluidici probabilmente sì ecco infatti c'è forse un domani se riuscissimo arrivare a contattare gli esperti di questo tipo di tecnica potremmo vedere in animali da esperimento cosa succede durante un trattamento bene perfetto grazie ciao vincenzo ciao io vorrei provare a trasdurre un po' quello che abbiamo detto alla pratica sì sì perché mi è stato insegnato che se io valuto contemporaneamente il diatapato racico e pelvico quello spazio che ho fra le mani dovrebbe contemporaneamente caudalizzare ma se io andassi aspetta 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 un momento pelvico e toracico sì però poi mi è stato anche insegnato che qualunque spazio che ho fra le mani in ispirazione ovviamente dovrebbe aprire quindi non caudalizzare no vabbè quando caudalizza ovviamente aumenta anche il diametro trasverso in quel caso ok ok perché io avevo il dubbio secondo il quale valuto diaframmato racico e pelvico e caudalizza c'è sempre c'è sempre una condizione tridimensionale quindi diciamo generalmente c'è una caudalizzazione ma anche un aumento del diametro trasverso tant'è che quando si abbassa il diaframmato racico tu hai un aumento praticamente del diametro trasverso ok va bene ok grazie altre domande? grazie Vincenzo come al solito illuminante ciao Corrancia ciao sì ma io papà sono illuminante perché papà stava all'Enel quindi c'ho questa questa attitudine genetica capito ottimo ottimo epigenetica sull'umorismo ne riparliamo va bene va bene se non ci sono domande ci aggiorniamo va bene ok ciao 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 Vincenzo ciao ragazzi ciao ciao Vincenzo grazie ciao ciao grazie 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 Francesco ok vai in corso data la sospensione del campionato il Benevento può vincerlo? penso di sì penso di sì Francesco sono d'accordo sono d'accordo da Pescarecce sono d'accordo ok grazie forza Juve sì forza Juve buonanotte ciao ciao Vincenzo grazie grazie ciao Vincenzo grazie Patrizia di Riccia ti saluta con tanto freddo ciao 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 a presto prof grazie speriamo a presto veramente ciao prof grazie ma io io mi sarei già quasi rotto le palle di questa roba così come dire virtuale però un po' virtuale però troppo finto vero Vincenzo eh troppo finto no più che altro mi sembra un deficiente guardo fuori la finestra parlo meno male che c'ho anche io c'ho il vantaggio sta in campagna c'è l'upu qua che mi va a trovare i gatti che mi guardano ci guardano e ci guardano completamente ma dove vivi? eh? capito quindi era l'altro bene ma dove vivi? dove sei? io in campagna su una collina abruzzese ah ok nel Chietino nel Chietino però non lo direi dopo abbiamo già iniziato una guerra di conquista non ti preoccupare io sono ciao una testa di ponte ciao ciao grazie ciao grazie lezione interessante a presto ciao ciao grazie spero potenti risentire ciao 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 salutate a terra natale ciao 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 in chat trovate il link per scaricare il materiale che ripetiamo è sempre lo stesso vi è stato inviato tramite newsletter e lì verranno caricate le lezioni ok? grazie buona giornata buona serata ciao 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 ciao